Marco Tancredi, chiariamo cosa è successo sabato mattina qui in Piazza Martiri della Libertà? Sì, questi ragazzi erano andati dall'assessore Luca Antoni a chiedere cosa dovessero fare per questo piccolo stacco pubblicitario qui in piazza, che era un flash mob. La Luca Antoni giustamente, correttamente li ha indirizzati agli uffici preposti, dove loro si sono presentati dicendo che dovevano fare un flash mob. Un flash mob, come tu sai, come penso i cittadini sappiano tutti, è un evento di qualche minuto organizzato in maniera estemporanea, senza installazioni solitamente. Giustamente gli uffici preposti hanno detto, vabbè se dovete fare un flash mob non c'è bisogno di nessun iter autorizzativo. Loro hanno chiesto solo l'occupazione ufficialmente per un banchetto di due metri per due per mettere il proprio materiale informativo. Poi la mattina qui sono intervenuti i vigi, io sinceramente mi trovavo qui per caso, non sono venuto a controllare. Però voglio dire, qui sulle scale del Duomo, oltretutto senza autorizzazione della curia e del vescovo, senza autorizzazione degli uffici preposti, c'erano delle installazioni, cioè c'era una batteria, c'era un'installazione concertistica che non è tipica di un flash mob e che oltretutto va autorizzata da un ufficio diverso, che è quello per il pubblico spettacolo. Nessuna mancanza quindi c'è stata da parte dell'amministrazione comunale, nessun litigio c'è stato tra lei e la Luca Antoni? No, non c'è stato nessun litigio. I soliti giornalai hanno riportato, perché io li divido fra giornalai e giornalisti, giornalai sono quelli che non verificano le notizie e riportano le voci di piazza, i giornalisti invece verificano le proprie notizie. Se mi avessero telefonato, se avessero telefonato a Francesca Luca Antoni li avremmo smentito tutte e due perché non c'è stato nessun litigio.